buongiorno a tutti allora ultima volta che uso la felpettona da brr che freddo che fa per per questo periodo poi naturalmente tornerà in auge a ottobre e a ottobre ci saranno tante novità per il gigione ma probabilmente ve le racconterò prima purtroppo quella cosa lì non si è ancora sbloccata quindi siamo ancora in alto mare anzi tra un po' a fogo vabbè comunque andiamo a vedere dopo che vi ho parlato di quello che è successo nella stagione maschile di sci alpino andiamo a vedere innanzitutto la classifica generale femminile di sci alpino e poi naturalmente la classifica generale di come si sono comportate quanti punti hanno fatto quanti punti di come sono finite le nostre ragazze al termine di questa stagione e che cosa hanno combinato naturalmente coppa generale femminile alla fine aveva già vinto con una come si può dire con una giornata di anticipo michela sua maestà michela scifri davanti a petra blova e a federica brignone che anche quest'anno ha superato i mille 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 punti era il suo obiettivo terza in classifica generale mille punti fatti non male non male e quindi le prime tre della coppa generale femminile sono scifri blova e brignone vediamo invece la classifica generale delle italiane come si sono piazzate dopo la brignone ci sono tutte le altre perché abbiamo al terzo posto come dicevamo la brignone al sesto posto mira sofia tenendo conto che mira sofia ha saltato un po di gare le ultime gare poteva fare qualche punticino di più e stare attaccata alla brignone davanti o appena dietro alla brignone però ha saltato alcune gare e quindi ahimè si è dovuta accontentare del sesto posto bene anche marta martissima bassino decima in classifica generale quindi libidine benino anche elena curtoni tredicesima in classifica generale quindi tanta roba abbiamo quattro sciatrici nelle prime tredici del mondo non in una specialità nel mondo globale totale poi abbiamo nadia del lago ventiquattresima nicole del lago cinquantatresima francesca marsaglia sessantesima caroline pichler 76esima roberta melesi o melesi 77esima e laura peterlini centesima ma ahimè laura peterlini si è infortunata subito quindi l'aspettiamo a ottobre al top del top del top e dico top perché ho già detto top andiamo a vedere adesso le varie discipline vi informo che hanno fatto un parallelo solo quindi ve lo dico subito il parallelo è stato vinto dalla stierna sono davanti alla slocana e all'isla e la bassina in quel parallelo l'hanno classificata al quinto posto ve lo dico così hanno passato ma ne hanno fatto uno solo adesso dovranno decidere la prossima stagione se puntare sul parallelo e farlo diventare una disciplina da coppetta se farlo solo come event così tanto per far divertire sia gli sciatori che gli spettatori senza dare punti se cancellarlo proprio sia il parallelo che come hanno già fatto ahimè la combinata super combinata che der si voglia e lasciare le quattro discipline e basta cioè discesa libera super gigante slano speciale slano gigante basta fine stop comunque andiamo a vedere la classifica generale di discesa libera femminile chi sono le prime tre al primo posto si porta a casa la sferona di cristallone la nostra mira sofia piripi 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 davanti a diavoletta diavoletta corinne sutter e al terzo posto la polivalente e poli snowboarder ledeca perché sapete che la ledesca fa sia snowboard che sci alpino e per ora riesce a conciliare tutte e due le cose lei fa le gare di velocità soprattutto discesa e poi fa anche la snowboarder tutte e due però riesce comunque persa in discesa libera del libidio tra l'altro vince snowboarder vediamo invece com'è la classifica della discesa libera femminile generale delle nostre ragazze come dicevamo al primo posto nella classifica la migliore di tutte sia delle italiane che globalmente c'è sofia goggia all'ottavo posto della classifica generale c'è nadia de lago al quattordicesimo posto federica brignone al diciannovesimo posto la nostra elenina curtoni al ventisettesimo posto la nicole del lago al 32esimo posto la francesca marsaglia che ha peso di sci al chiodo quindi l'anno prossimo farà la maestra di sci penso non lo so poi farà quello che vuole al 35esimo posto abbiamo la nostra marta martissima bassino e al 44esimo posto abbiamo caroline 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 piekler o caroline picler che dir si voglia andiamo a vedere la classifica generale di super g femminile chi ha portato a casa la sferona di cristallo federica brignone quindi abbiamo in discesa libera sofia goggia in super g federica brignone che si portano a casa la sfera di cristallo come migliori al secondo posto in super g abbiamo elena curtoni e al terzo posto sua maestà micaela scifri andiamo a vedere in super g come si sono comportate dopo brignone e curtoni che sono prima e seconda le altre nostre ragazze al quinto posto abbiamo sofia goggia al decimo posto marta martissima bassino che squadra che squadrone ragazzi che squadrone al 27esimo posto francesca marsaglia al 30esimo posto caroline picler al 33esimo posto nicole de glago al 30esimo posto la roberta melesi e al 44esimo posto madia del lago vediamo ahimè alle dolenti note lo slalom speciale femminile classifica generale alla fine prima vlova seconda scifrin terza dur e quindi la scifrin altro podio ma niente coppa coppettina preso la coppa generale però per ora delle piccole discipline delle singole discipline solo dei piazzamenti ma nessuna vittoria però se portate a casa la coppa generale e direi che già libidile la classifica generale dirà uno speciale femminile per quanto riguarda le italiane piange piange lacrime amare perché la più brava è la peterlini 36esimo che tra l'altro ha fatto tutta la stagione a casa perché pronti via se fatta male subito al 38esimo posto c'è federica brignone e al 49esimo posto anita gulli quindi nel slalom speciale noi facciamo scusate il francesismo cagare che fa anche rima veniamo allo slalom gigante femminile la classifica generale che si è decisa nell'ultimissima gara che ha visto la scifrin arrivare settima la vorlet arrivare davanti alla etto e alla scifrin e così grazie a questo escamotage vincere la coppa di specialità la scifrin era prima dopo la prima manche bastava stare davanti alla vorlet non c'è rimasta davanti è finita al settimo posto la vorlet ha ringraziato e si è presa la coppa di specialità di slalom speciale di slalom gigante scusate femminile davanti a una sala actor che aveva dominato quasi tutto la seconda parte di stagione perché le prime due gare le aveva vinte la scifrin e sembrava già decisa che il gigante era suo e invece poi dopo è venuta fuori la etto che ha iniziato a vincere alla grande la vorlet invece sa cosa ha fatto ha fatto la formichina che si piazzava sempre faceva punti in tutte le discipline in tutte le gare scusate e all'ultima gara le ha messe via tutte e due e devo dire che la tessa vorlet c'è un suo bel perché perché stavo notando che al parterre regalava regalava e non aggiungo altro nonostante i suoi 30 anni anche lei è ancora un bel fighino scusate il francesismo andiamo a vedere invece come si sono comportate le nostre ragazze nello slalom gigante femminile la classifica generale solo delle italiane sullo slalom gigante femminile allora al quinto posto abbiamo marta martissima bassino davanti a federica brignone quinta e sesta ahimè solo trentacinquesima la nostra mira sofia gongia al trentasettesimo posto elena curtoni al quarantunesimo posto roberta melesi o melesi e al cinquantunesimo posto caroline picla bene ragazzoli vi ho fatto anche il resoconto della stagione femminile con le classifiche eccetera eccetera come potete vedere abbiamo un bel una bella squadra una gran bella squadra quattro atlete in classifica generale andiamo a vedere la classifica generale eccola qua dovrebbe essere qua allora terza brignone sesta gogia decima bassino tredicesima curtoni senza contare che abbiamo le due sorelle terribili del lago nadia e del lago nicole che l'anno prossimo potranno fare molto molto bene e poi rientra anche laura peterlini da cui ci aspettiamo tanto ma tanto ma tanto che ci tiri un attimo sul morale per quanto riguarda lo slalom speciale in cui appunto stavo dicendo che facciamo un pochettino cacare è l'unica disciplina in cui facciamo fatica da beata giovanna però il su laura peterlini ci puntano molto i commissari tecnici eccetera vedremo 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 se non erro la buona laura è una ottima una buona slalomista adesso controllerò prima di aver detto una fetecchiata ma se non ricordo male la laura peterlini è bravina in slalom speciale ma controllerò poi ve lo metto sotto se ho sbagliato metto ho sbagliato la peterlini è fortissima in questa disciplina se non vi scrivo nulla vuol dire che ci avevo ragione detto questo ragazzoli è finita la stagione di sci noi naturalmente oltre al calcio seguiremo formula 1 e moto gp quindi non ci sono problemi di sport sostitutivi allo sci ci sono ne perdi uno ne raggiungi ne aggiungi due ma d'altronde lì ho maschile femminile sci e qua ho moto gp formula 1 quindi vedete due se ne vanno due arrivano due se ne vanno due arrivano e il gigione ha sempre da raccontarvi tante tante belle cosine si spera si spera anche perché ci sono anche le cosine brutte 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 poi ogni tanto quello che mi passa per la testa vero racconto vedete il mio canale non è monotematico è un put purri ecco per intenderci poi se lo seguite bene se non lo seguite io mi diverto a farli video detto questo alla prossima ciao